la presentazione partita ragazzi adesso proviamo senza averla mai provata prima a vedere cosa abbiamo fuori va bene? 1, 2, 3, 4 Follettina 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 Che dire follettine, follettini Ho le bamboline che sono le mie bambine sono molto tenera, simpatica e carina voglio tanto bene alla mia sorellina Follettina o piccolina la regina di Youtube Follettina bambolina la leggi con me anche tu sono molto... vuoi donare i caffè? il mio cuore dolce come il frappè alle elementari mi prendevano di mira invece adesso vedi il mio video come gira Follettina bambolina la regina di Youtube Follettina bambolina vieni qui con me anche tu Follettina piccolina la regina di Youtube Follettina bambolina vieni qui con me anche tu si sta bruciando la lampada la stacca un attimo si c'è puzza stava bruciando la lampada apriamo apriamo apriteci aprite tira quella lì tira quella maniglia lì forte 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 tira tira si stava bruciando la lampada si stava bruciando la lampada si stava bruciando la lampada stavo volendo soffocata immagino ah ma quel tumorino va fuori con l'aria quello lì serve per un'altra roba comunque si stava bruciando la lampada finita per quel pezzo qua che non prendi la scossa e appoggiala a qualche parte perché sta bruciando